Allora ragazzi, calma il sangue freddo, qua davanti abbiamo un Uxiei al livello 50, un bellissimo Pokémon leggendario, un Guardiano dei Laghi Uno dei pochi Pokémon leggendari che ci mancano da catturare, quindi Uxiei dove mi stai andando? Calmati perché oggi abbiamo da fare nuova, la mia prima squadra Galaxy, ma uh è sparata anche Necrozma Boss, però questo qua ragazzo è boss, non si può catturare, poi di Necrozma abbiamo un secolo normale e anche quello Shadow Ma comunque campioni, benvenuti dentro di questo nuovo video, il vostro caro Bond e Mark Oggi salutiamo noi, mi Edoardo e Giorgio che hanno commentato lo scorso video con l'hashtag sono un campione Mi raccomando ragazzi, commentate anche voi con l'hashtag sono un campione Qua noi continuiamo a fare falso finale perché dobbiamo portare Uxiei fino a uno di vita Perché dobbiamo catturare, dobbiamo prendere tutti quanti i Pokémon leggendari Un obiettivo di questa sera qua ragazzi è catturare tutti i Pokémon leggendari Per favore Uxiei, perché? Perché io mi trovo solo Pokémon fastidiosi Su questo cammino lunghissimo della Pixar Ma ragazzi, ma ci venite del conto che abbiamo quasi fatto 200 episodi di questa sera Ragazzi, 200 episodi e avete sempre supportato questa sera qua Dall'inizio fino ad adesso, sono super felice che vi piaccia Comunque, una cosa che appunto vi piace ragazzi ogni volta le sfide che facciamo per catturare tutti i Pokémon leggendari Quindi, anche oggi abbiamo una nuova sfida Stiamo finendo tutte le Ultra, tutte le Duskball e queste cose qua Per questo oggi sarà un po' un episodio di farming E un po' anche un episodio appunto per creare una nuova squadra iperpotente Mamma mia ragazzi, Uxiei si è ancora addormentato Si è ancora addormentato, io non ci voglio credere! Dovrebbero bandarla a recover come mossa da questa serie qua Però, ovviamente, ma ragazzi non cade neanche... Allora, io non faccio come con Hazelf ragazzi a questo giro però eh Non sto qua un'ora e mezza, ve lo dico Anche perché abbiamo pochissime bolle Uxiei non vuole essere catturato Anzi, si continua a ricaricare la vita Allora, non pensiamoci ragazzi Facciamo finta di nulla Noi, è come se fosse... Noi dobbiamo arrivare al nostro scopo Catturare tutti quanti i Pokémon leggendari Il resto poco ci importa come lo facciamo Anche perché a voi piace Io che smatto contro tutti quanti i vari Pokémon Quindi continuiamo a farlo ragazzi Eccolo qua ragazzi Ma perché? Perché dannazione succede? Tutto a me Va bene, l'accetto ragazzi, l'accetto Va bene, a me non mi interessa Però continuiamo così Ancora di falso finale Tra un po' ho gli etere Max etere, meno male Se no qua ragazzi era un disastro E andiamo ancora ai Duskball È addormentato Vado ai Duskball Per favore Pixemo mi fai catturare un Pokémon Uno Non entra neanche Ragazzi non ce la posso fare eh Ok, non si è più riaddormentato però Va bene Va bene così Lo accetto Uxie L'importante è che ti fai catturare Dall'azione Abbiamo una cosa molto importante da fare oggi Vi dicevo Dobbiamo costruire la prima squadra Galaxy e Lucente Della Pixamon ragazzi È la prima volta che facciamo una roba del genere Perché ovviamente Sendo domenica Dobbiamo cambiare squadra Pokémon Non ci credo Io non ci credo Io non ci credo Quindi Dicevo Dobbiamo anche farmare tutte quante Le varie Ultra Molte quante Duskball Molte quante le cose che possiamo farmare Perché così Ragazzi appunto Abbiamo tutti quanti oggetti Anche perché vi ricordo Che non solo ci serve una squadra Galaxy Perché dobbiamo cambiare squadra in settimana Ma dobbiamo anche migliorare quella attuale Quella più potente che abbiamo Perché? Perché abbiamo ancora da sfidare La Lega degli Youtuber Che è una cosa difficilissima da sfidare ragazzi Su questa cosa qui Non ci piove E sappiamo No ragazzi Non ci voglio credere Io non ci voglio credere Che si continua a ricaricare la vita Quindi dicevo Dobbiamo avere sia una squadra Galaxy Per tutte quante le avventure Settima prossima Ma non solo Dobbiamo anche avere una squadra Che possa completare finalmente la battaglia Cosa sta succedendo? Perché non mi attacca a false swipe? Dicevo Abbiamo bisogno di una squadra Che appunto Possa fare tutte quante le varie avventure In giro per il mondo della Pixel Quindi serve anche una squadra bella potente Per questo motivo Ho farmato tantissime caramelle rare Tantissime XP Candy XL E tantissime altre robe Super particolari Da poter utilizzare in questo episodio Quindi un bel video di farming Come piace a voi ragazzi Mi avete detto che ogni volta I video di farming vi piacciono Vi vedono come farmo le mie cose Come costruisco la mia squadra Pokémon Come la potenzio Tanti mi hanno detto Che giocano la Pixelmon Anche grazie ai miei consigli Grazie a quello che vedete nei video Ma soprattutto Se trovate i guardiani degli laghi Ragazzi Lasciateli perdere A meno che non abbiate Ma scusate Mi sto utilizzando un potere Used in Prision Cioè non posso catturarlo? Cioè io non posso catturare un Uxie? Perché non utilizza Un effetto particolare No io vorrei un attimo capire Perché se no qua Io lancio la Master Ball Perché io veramente I guardiani degli laghi ragazzi Non li sopporto più eh Veramente No si è ancora ricaricato ragazzi Cosa devo fare Per catturare un Pokémon Nel 2022 Io ragazzi Cosa devo fare? Per favore Uxie Non è possibile però ragazzi Questa cosa qua Che noi per catturare I Pokémon leggendari Ci mettiamo 58 anni Come i guardiani degli laghi Che sono a livello 50 Con uno di vita E poi andiamo contro I Pokémon Galar E un G Basta Ok Poké Ball Master Ball Ho usato una Master Ball Per un guardiano degli laghi? Sì L'ho fatto per il bene della serie Può darsi Mi state insultando nei commenti È sicuramente Questa qui Lo scenario Che gli sta evolvendo Mi interessa qualcosa Può darsi Ho spiegato una Master Ball Sì Fa niente Comunque Campioni benvenuti Noi deviamo ancora far vedere I disegni dei campioni Deviamo far vedere Tutte quante le cose belle Però abbiamo anche Necrozma Se tu mi droppi una Master Ball Probabilmente il Karma Potrebbe Diciamo Rigirare per bene Verso il mio favore Cosa ne pensi Signor Necrozma Tu dovresti anche soffrire Se non mi sbaglio Shadow Ball Non hai sofferto un tubo secco Shadow Ball Ma va bene così ragazzi Oggi è un episodio un po' Dove tutti quanti impazziamo Mamma mia Che posso dire Comunque ragazzi Mewtwo Y Così Shadow È bellissimo L'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto Quindi per favore Mewtwo puoi far fuori Questo Necrozma Così finiamo per favore Questa sfida qua Doviamo andare ancora A far vedere il disegno Dobbiamo farmare La nostra nuova squadra No mi ha dato una carabella rara Beh droppiamo tutto Bene ragazzi In questo episodio Noi abbiamo bruciato Letteralmente bruciato Una Master Ball Per il bene della serie Dovete apprezzarlo Non dovete insultare Nei miei commenti Ma dovete solamente apprezzare Il fatto che Ho bruciato una Master Ball Per voi ragazzi Perché se no qua Non catturiamo tutti quanti I Pokémon leggendari Dannazione Allora Facciamo una cosa ragazzi Mettiamo via Mew Mettiamo via anche Mewtwo Che in questa sfida qua Non ci sarà Necrozma E Umbra Non ci teniamo Perché Umbra Ovviamente è Galaxy Necrozma Ci serve perché Se no non possiamo andare In Ultra Dimension È spawnato un Verizon Anche ragazzi Cosa faccio Dov'è Perché allora La cosa importante ragazzi È che è spawnato Un altro Pokémon leggendario Oggi non ci fanno registrare Questa serie Dannazione Allora Verizon è interessante Perché appunto Dicevo È un Pokémon leggendario E se noi lo eliminiamo C'è una buona possibilità Che lui ci droppi una Master Ball Quindi Eccolo là in fondo Spawnano sempre in queste zone qua Sti Pokémon Quindi per noi È fondamentale eliminarlo Non catturarlo Perché appunto Dobbiamo rifarmare La Master Ball Che abbiamo appena perso Mi dai una Master Ball No Non mi hai dato un tubo Ma dannazione Oggi ragazzi Il vostro caro Bondemark Non è sfortunato Di più Di più ragazzi Anche i boss Neanche gli danno più una Master Ball Non è anche una niente Non mi danno più nulla Allora Dicevamo ragazzi Possiamo costruire la nostra nuova squadra In questa nuova squadra Ovviamente Graudon Lucente Farà parte Poi Vediamo Solo e esclusivamente Pokémon Galaxy Quindi Kyogre Ce lo portiamo con noi Ok Guardate quanti Pokémon Interessanti Molto 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 bene A questo punto Ragazzi Chi potremmo mettere In questa squadra qua Molto interessante Potremmo mettere Un Pokémon Shadow Come Blastoise In questo caso Oppure Potremmo mettere Uno dei miei Pokémon preferiti Che è Iveltal Ragazzi In questo caso È un Pokémon Oscuro Ci può stare Un Pokémon Shadow In questo caso Iveltal Ma almeno abbiamo 3 Pokémon Galaxy Se non mi sbaglio 2 Oscuri Non Lucente Che comunque Non è per niente male Ora facciamo una cosa Andiamo qua A prendere Le caramelle rare Tutto quanto per bene Anche perché In realtà Abbiamo veramente A potenziare molto I nostri Pokémon Facciamo una cosa Innanzitutto Voglio mostrarvi Cosa ho farmato In questi giorni Allora abbiamo 14 caramelle rare 11 xpxl 7s 22 xs Tantissimi Ne ho trovato E 8 xl Quindi ragazzi Ma io ho droppato A terra i miei oggetti Patrat Dove sono Pixelmon Dove sono i miei oggetti Aiuto Patrat Mi segue Allora Eliminiamo sto Patrat E devo per favore Ritrovare tutte le cose Che ho droppato a terra Perché se no qua Perché non funzionano I miei attacchi Su Patrat Ok grazie Però facciamo una cosa Prima di potenziare I nostri Pokémon Andiamo a salutare Il campione di oggi Che è Matteo Che ci manda Un bellissimo Dragonite In battaglia Con un requasa Disegnato così A pennarello Complimenti Matteone Grazie mille Del disegno Giovane campione Mi raccomando ragazzi Continuate a mandarmi I vostri super bellissimi Disegni Guardate che bello Con i disegni di Gaia Ogni volta che lo guardo Dico bellissimo Come tutti quanti Anche i vostri disegni Il primo disegno Che mi aveva mandato Emma Comunque Ragazzi È arrivato quel momento In cui andiamo a potenziare La nostra squadra Allora Noi abbiamo già Umbreon E Necrozma Che sono a livello 100 E su questo Siamo tranquilli Poi Abbiamo Blaziker Ragazzi Che ha assolutamente Da potenziare Perché ha un livello 70 Abbiamo Graudon Che ha l'81 Che ha iogre Che ha l'85 E i Veltal Che ha il 93 Allora Facciamo una cosa Dato che i Veltal È quello più bello Di tutti quanti Secondo me È da potenziare E da portare Almeno subito A livello 100 Ragazzi Almeno siamo belli Che tranquilli E il nostro giovane I Veltal È a livello 100 Un Pokémon Molto interessante Kaiogre ragazzi Kaiogre È anche lui Almeno da portare A livello 90 Quindi Kaiogre Facciamolo salire 87 88 89 90 Water Spout Non è una mossa Che mi interessa In più Nel mio zaino Ragazzi Abbiamo qualcosa Che potrebbe imparare Il nostro giovane Kaiogre Forse magari Nella stanza di sopra Di là Abbiamo qualcosa interessante Tipo Thunder Che potrebbe essere Un'ottima mossa Poi Anche Graudon Ragazzi Io lo porterei Con tutte le caramelle Basse che abbiamo A livello 90 Se riusciamo a portarlo Vediamo qua Lui si è preso Già tutte quante Le caramelle Le M Se le sta prendendo Per bene E lo abbiamo portato Fino al livello 83 Ok Poi diamogli Dove sta andando Graudon Tu sei il mio Pokémon Vieni qua Vieni qua Vieni qua Diamogli anche le S Ci rimangono Quindi 8 L E 6 XL E 5 caramelle rare Allora Diamogli delle L A Graudon E diamo anche qua Qualche caramelle XP Candy Normale Le caramelle rare Per portarlo Fino al livello Dove è andato Graudon Graudon torna qua Fino al livello 90 Anche lui Ottimo Eruzione ragazzi Eruzione al posto di Fire Blast Secondo me non ne vale la pena Perché Fire Blast Toglie 110 Eruzione è un po' Un casino Per calcolare quanto toglie Però Anche lui È un livello 90 Ora Abbiamo Ai Veltal Al 100 Kaiogra 90 Graudon al 90 Necrozma al 100 Umbreon al 100 Tutto quello che ci rimane Io lo butterei direttamente Su Blaziken Che purtroppo È ancora un po' Basso di livello ragazzi Ma secondo me Diventerà un Pokémon Bello che tosto Quindi 75 76 78 79 Io direi che ho l'81 Ragazzi Blaziken è veramente Un ottimo Pokémon Ora La cosa importante Di questi Pokémon È vederli Se riusciamo anche A potenziarli Perché La cosa fondamentale Appunto È avere una squadra Ben adatta Per la battaglia Che vogliamo fare Allora Andiamo di qua Perché abbiamo Allora Thunderfunk Che non può impararlo Kaiogre Però A me servirebbe Un Thunder normale Vediamo se qua c'è qualcosa Che può interessare Allora Qua niente Qua niente Bodypress Leafstone Leafblade No Mudshot Non mi interessa Allora Thunderpunch Non può impararlo Kaiogre Per me serve solamente Un Thunder Proprio Thunder 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 Thunderpunch Ancora Eh ragazzi È tosta eh Allora Ice Beam Ce lo prendiamo Perché potrebbe essere Anche questa qui Un'ottima mossa Venoshok È una mossa Che forse qualcuno Può imparare Nella mia squadra Quindi me lo porto Io perché potrebbe essere Utile Da avere Nella propria squadra Venom Drench Anche Non è male Willowisp È un'ottima mossa Ma non mi interessa In questo giro di Pokémon Qua non ho altre mosse Vero? No ragazzi Forse giù abbiamo Un altro Thunder Nell'altra cassa Qua di mosse Perché avendo tante cose Sparse in giro È un po' un problema In effetti ragazzi Thunderbolt Thunderbolt Può impararlo Kaiogre Andiamo subito a vederlo Allora Thunderbolt Kaiogre Thunderbolt Può impararlo Ottimo Al posto di Ancient Power Thunderbolt ragazzi È un'ottima mossa Perché ha 10 utilizzi in più E fa 30 di danno in più E ha la stessa precisione Ed è una mossa Tipo elettro Su un Pokémon Tipo acqua Ottimo Avete visto ragazzi Perseverare La ricerca delle mosse È veramente fondamentale Come cosa Quindi Vediamo un attimino Se riusciamo a trovare Qualcos'altro Aliswitch no Qua abbiamo qualcosa Che può servire Blizzard Eh Blizzard su Kaiogre Ragazzi è ottimo Kaiogre è un Pokémon Che è assolutamente Potenziale ragazzi Abbiamo visto Quanto è forte Avere un Kaiogre Quanto è importante Avere un Kaiogre In squadra Che è veramente Super performante Thunderwave no Non mi interessa Sunny Day neanche Sludge Bomb È un'ottima mossa Poi vediamo Flare Blitz È un'ottima mossa Per il nostro Giovane campione Blaziken Shadow Ball Ce lo teniamo con noi Vediamo 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 Thunder Punch Allora Vediamo Perché forse ragazzi Il nostro bellissimo Blaziken Può imparare Una di queste mosse qua Flare Blitz Vediamo se già ce l'ha Non può imparare Flare Blitz Ok Thunder Fang Neanche Ok ragazzi Fa niente Però un Ice Beam Su Kaiogre Kaiogre non può imparare Ice Beam Ma Blizzard Si Allora Ha già Ice Beam Allora è meglio Blizzard o Ice Beam Ragazzi Ice Beam in questo caso È molto più performante Però Avevo un'altra mossa Che è No Ho due Ice Beam Ok niente di che Niente interessante Sludge Bomb Può impararlo Kaiogre No non può impararlo Però Vediamo Necroz Ma può imparare Sludge Bomb Non può impararlo Ok Però Iveltal Può imparare Shadow Ball Che è un'ottima mossa Che potremmo far imparare A posto o di Phantom Force O di Sky Attack Che toglie 140 Di danno Una mossa tipo volante Non lo so Focus Blast È fondamentale Secondo me Il mio Iveltal Ragazzi È già bilanciato per bene Quindi Shadow Ball Non glielo farei Reimparare Però Magari 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 All'interno del Move Reiner C'è qualcosa Che il nostro Blaziken Può imparare Che noi non abbiamo Per esempio Qualche mossa di tipo lotta Allora Le nostre tipo lotta Ragazzi Sarebbero super fondamentali Per il Blaziken Vediamo un attimino Se abbiamo qualcosa in casa Abbiamo Close Combat Che è un'ottima mossa Che potrebbe imparare Vediamo un attimino Se Close Combat Può impararlo E vediamo se è anche utile Il nostro Blaziken Cavolo ragazzi 100 di precisione 120 di danno Ok che ha 5 utilizzi Però Io quasi quasi A posto di Slash Gli lo faccio imparare Perché una mossa tipo lotta Su un Blaziken Così Potrebbe essere Molto 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 importante Allora Nel piano di sopra ragazzi Ho messo anche a cuocere In questi giorni Un po' di dischi Un po' di robe Per fare un po' di Ultra Ball E Dusk Ball Qua abbiamo un po' di dischi Di Dusk Ball Qua un po' di ferro Qua abbiamo finito Il carbone No ok Quindi mettiamo da questo lato Visto che c'erano anche Delle Ultra Ball Qua già cotte Dovrei avere anche Dei pulsanti In giro per il mondo Qua ho della Son Quindi a questo punto Possiamo farci dei pulsanti E trasformare Questa roba qua In metà Ultra Ball E l'altra metà In Dusk Ball Ok Almeno abbiamo 48 Ultra Ball E torniamo più o meno A pieno regime Ho qualche Qualcos'altro di ferro Da qualche parte Non mi sembra ragazzi Che abbia messo A cuocere Eccolo qua Altri 10 di ferro Qua altri 5 Forse nei piani sotto Abbiamo qualcos'altro Vediamo un attimino Spero di avere altro ferro In giro Non ho altre cose di ferro Dannazione Vabbè Comunque Altri 15 di Dusk Ball Ci potrebbero essere utili Quindi 1 2 E 3 Ok Allora Abbiamo fatto un sacco di crafting Abbiamo fatto un sacco di farming Qua dovrei avere altri Max Revive Max Potion Che sono super fondamentali Diciamo che il farming di oggi ragazzi Ci ha fatto creare un'ottima squadra Pokémon Perché mi piace La mia nuova squadra Galaxy Mista Non è solo Galaxy Però i principali ragazzi Sono i miei preferiti Cioè abbiamo Umbreon Che il mio Pokémon preferito È Galaxy Spettacolare E in questa serie qua Kaiogre È stato il Pokémon più decisivo E anche lui Nella nostra versione Galaxy Quindi Super Tantissima roba Campioni Noi Ci vediamo in un prossimo video Dopo questo video qua Farming Spero che Questa serie qua Vi piaccia sempre di più Vedremo Cosa si vedrà In un prossimo episodio Di una battaglia fondamentale Per la serie Dal vostro caro Mark è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Scegliete uno di quelli qua davanti Oppure La playlist La Pixelmon Per non perdervi Gli altri video sono già usciti Da Mark è tutto Noi ci salutiamo Ciao ciao